No, no, va bene, ma lascia perdere perché perdiamo più tempo a fare questa operazione. Andiamo avanti. Allora, come l'ho detto, io volevo far vedere una presentazione, ma... Andiamo a cambiare se, diciamo, il tema dell'innovazione sociale è chiaro. Chiaro? Occupiamoci di un altro concetto che è un po' il collegamento tra quanto abbiamo detto stamattina e appunto questo tema dell'innovazione sociale e che è il cosiddetto social business. Social business, che possiamo tradurre maccheronicamente appunto in impresa sociale, è un pezzo dell'innovazione sociale. Innovazione sociale è un concetto più ampio perché, come abbiamo visto, riguarda tutte le idee che possono essere messe in campo per risolvere problemi sociali, indipendentemente da chi le realizza. Quindi può essere anche un ente pubblico, può essere un'università, può essere chiunque. All'interno di questi ci sono anche le imprese. Il concetto di social business è un concetto ideato da Muhammad Yunus. Qualcuno di voi l'ha sentito nominare? Del Bangladesh. Quasi. Muhammad Yunus è l'inventore del microcredito. È quello che ha inventato una banca che eroga microfinanziamenti in Bangladesh, che ha qualche cosa tipo una trentina di milioni di clienti, a cui eroga finanziamenti micro, che vuol dire anche di poche decine di dollari, per avviare delle iniziative. Dopo aver inventato una quarantina d'anni fa, trentacinque anni fa, il concetto di microcredito, e avere vinto anche il premio Nobel per la pace, ha ideato un nuovo concetto, che è questo del social business, che vuol dire sostanzialmente, se voi volete risolvere un problema sociale, bisogna farlo con una mentalità imprenditoriale, e quindi creare un'impresa sociale che risolva questo problema. Ora, nel concetto di Yunus, poiché lui è uno, non solo del Bangladesh, ma è uno che ha studiato e insegna negli Stati Uniti, l'idea di impresa che lui ha in mente è quella americana, cioè la grande impresa multinazionale. E quindi dice, per ottenere grandi risultati dal punto di vista sociale, deve essere una grande impresa sociale che agisce in questo settore. Tant'è vero che lui ha lanciato, come iniziative di social business, delle grandi alleanze tra, ad esempio, la sua Grameen Bank e la Danone, la sua Grameen Bank e la Bosch, quindi alleanze, diciamo, tra una grande impresa sociale ed una grande multinazionale che, diciamo, normalmente sociale non è. Ovviamente questo concetto è poi stato recepito in Europa, lui a un certo punto ha cominciato a girare il mondo spiegando questo modello, è stato recepito in Europa in maniera un po' diversa, perché in Europa, soprattutto in alcuni paesi di Europa, come Italia, come la Spagna, non esistono queste grandi aziende multinazionali all'americana, ma noi abbiamo un concetto di medio-piccole imprese molto diffuse e quindi il concetto di UNUS di social business è stato un po' moderato ed è stato inserito dentro i regolamenti della Commissione Europea tenendo conto del tessuto di medie e piccole imprese. Quindi, quando la Commissione Europea parla di social business non parla della grande impresa multinazionale, ma parla di un tessuto diffuso di piccole e medie imprese sociali. Ora, voi qua, diciamo, siete una platea abbastanza variegata, però normalmente quando si parla di questi argomenti rispetto a platee che sono impegnate nel sociale in maniera forte da una vita, insomma, con grande dedizione scatta subito la contestazione che il business non può essere sociale e che se il sociale diventa business non è più sociale. E questo genera grandi dibattiti. Perché, come dire, nella nostra tradizione siamo abituati a pensare al sociale come qualche cosa che in qualche modo è collegato con la gratuità, è collegato con il non avere scopo di lucro e tutte le cose che abbiamo anche detto stamattina. Mentre qua si parla di tutta un'altra cosa. Cioè, si parla di fare business, di fare affari, però con una finalità sociale. Anche con la cultura possiamo sfruttare? Con la cultura non si mangia, questo l'abbiamo mai. appurato. E quindi è un concetto difficile da recepire, soprattutto in un paese come il nostro dove la tradizione del sociale addirittura va indietro di secoli e secoli con i mutui di soccorso, i monti dei pegni e così via. Invece la Commissione Europea ci dice proprio, tolgo davanti, ogni tanto ti faccio spostare la telecamera per un po' di... così evitiamo che prendi sonno, anche tu. La Commissione Europea quindi identifica il social business come una impresa, a tutti gli effetti, che deve generare profitto, ma per la quale il profitto non è l'obiettivo prioritario. l'obiettivo prioritario è l'impatto sociale, però poi deve fare profitto, che opera nel mercato, quindi non è un'impresa che in quanto genera iniziative che hanno un impatto sociale deve essere finanziata dallo Stato, no, deve operare nel mercato, vendere prodotti e servizi nel mercato, che utilizza i profitti per raggiungere gli obiettivi sociali e che è gestita da imprenditori. Che cos'è l'imprenditore? Colui che può fare profitti, reinvestirle, reinvestirli per raggiungere l'obiettivo, ma può avere anche una distribuzione limitata, quindi nel regolamento comunitario si dice che, certo, può anche scegliere di non distribuire niente, però viene lasciata la possibilità all'imprenditore sociale di distribuire profitti. Il limite alla distribuzione dei profitti è uno degli elementi che hanno generato grande discussione in Europa, perché gli inglesi dicono deve esserci totale libertà di distribuzione dei profitti, gli italiani o i francesi dicono no, ci deve essere un tetto. E c'è una discussione che poi si tradurrà praticamente nella possibilità o meno di acquisire la qualifica di social business su quale sia il tetto della distribuzione che un po' riprende quello che abbiamo detto stamattina. Questi sono evidentemente concetti che sono già stati inseriti all'interno, cioè non è che è teoria, questo è già un regolamento comunitario, quindi verranno poi necessariamente recepiti dai programmi europei e a cascata arriveranno anche in Italia. Il punto quindi essenziale è il che si passa diciamo dal concetto di non profit ad un concetto di business che è completamente diverso. E qui vi ho evidenziato in maniera molto chiara che il social business non ha niente a che fare con l'impresa sociale disciplinata dalla nostra normativa. perché abbiamo visto stamattina che l'impresa sociale vieta la distribuzione di profitti, che l'impresa sociale ha l'obbligo di operare in alcuni settori, di coinvolgere determinate categorie di soggetti. Qua non c'è nulla di tutto questo. Purché un'impresa dimostri di perseguire un obiettivo sociale qualunque esso sia potrà essere classificata come social business a livello comunitario indipendentemente dalla forma giuridica, indipendentemente dalla dimensione, indipendentemente dalle categorie svantaggiate a quali si va a rivolgere. Quindi il campo di applicazione diventa molto più ampio e potenzialmente la famosa grande multinazionale cui parliamo di Europa, quindi inglese piuttosto che tedesca, che dovesse decidere di dedicarsi ad un obiettivo sociale sarà una considerata a livello comunitario un social business alla pari delle cooperative sociali o delle imprese sociali della nostra legislazione. Ora, diciamo, questo come evidentemente conseguenza avrà che quando si va a competere per risolvere il problema dei famosi bambini che lasciano la scuola in età dell'obbligo e arriverà quello olandese che fattura 30 milioni di euro occupandosi di questo argomento e parteciperà in Italia a una gara con la cooperativa sociale diventerà difficile che non vincano questo tipo di gare potendo mettere in campo risorse mezzi esperienze e quindi è comprensibile come dire l'atteggiamento difensivo che il mondo dell'impresa sociale italiano ha rispetto a queste novità che sono state introdotte il problema è che le novità sono state introdotte sono già concrete si potrà mitigare un po' nella attuazione dei singoli bandi ma molto difficilmente potranno essere eliminate per cui è una realtà di fronte alla quale ci troviamo quindi il futuro potrebbe essere grandi imprese multinazionali che si occupano del recupero dei bambini alla scuola dell'obbligo in tutta Europa immaginare di mettere insieme più in presso italiane a mettere insieme di un prodotto di ati o del mondo dell'ospensione giusto per contendere con questi colossi sono almeno grossi questa è una buona osservazione noi in Italia abbiamo già dei consorsi di cooperative sociali che sono piuttosto grandi alcuni di questi hanno cominciato a ragionare in questi termini hanno cominciato a pensare come lavorare sul mercato e non più solo con i fondi pubblici come sviluppare dei servizi e magari anche andarli a vendere all'estero mi dicevano la settimana scorsa che c'è una cooperativa sociale primo caso in Italia una cooperativa sociale Umbra di Terni che ha vinto una gara in Inghilterra no era sulla raccolta differenziata però diciamo per fare questo tipo di operazione è necessario quel cambiamento un po' culturale di cui abbiamo detto stamattina cioè è chiaro che finché l'approccio resta il ai servizi sociali ci deve pensare lo Stato ed è lo Stato che mi deve dare i soldi che deve dare i soldi a quelle organizzazioni che erogano questi servizi sociali evidentemente anche da un punto di vista culturale queste grandi cooperative italiane questi grandi consorsi non entreranno a competere nel vasto mercato europeo dei servizi ma cercheranno di impedire che altri vengano a prendere le commesse pubbliche che ci sono in Italia soltanto quando si supererà questa dipendenza dalle risorse pubbliche si potrà cominciare a ragionare in termini imprenditoriali e quindi andare magari noi a vedere che cosa si può prendere fuori e che cosa si può fare fuori nel momento in cui sono finiti i soldi però diciamo il problema in quel caso è che se si aspetta troppo poi quelli che avrebbero la possibilità di farlo potrebbero arrivare lì con l'affanno insomma con l'acqua alla gola e quindi non essere più in grado di organizzarsi perché per partecipare a un bando europeo devi avere qualcuno che in inglese o in olandese ti legge il bando e capisce cosa c'è scritto e quindi chiaramente diventa difficile poiché noi stiamo mandando un sacco di italiani a lavorare all'estero loro hanno un sacco di italiani che leggono i bandi quindi è più facile insomma per il concetto di economia di mercato appunto non rispetta il principio di equità che è applicato al settore dei servizi sociali appunto nella concorrenza tra cooperativo sociale rispetto all'impresa in questo mercato qualitativamente migliore avremo come risultato un accesso meno democratico cioè nel senso che alla fine potranno accedere a questi servizi non più tutti i soggetti beneficiari ma solo se chi avrà le potenzialità di accedere cioè mi ricordo il sistema sanitario americano così come il sistema museale europeo tranne che quello italiano dove noi abbiamo prezzi bassi accesso democratico alla cultura locale anziché il lucro dove si permette di accedere solo se hai la capacità economica per insomma pagare i biglietti ecco questo è il principio di equità di meno nel processo di affari dell'economia militare il problema è che il lucro è il museo pubblicizzato del mondo i musei italiani vengono sdobbati forse il più grande museo italiano è dieci volte meno visitato il museo l'obiezione che fa Roberto è diciamo una di quelle classiche obiezioni che vengono fatte che mi vengono fatte dalle organizzazioni del sociale italiane dagli operatori cioè dice se si sviluppa questo tipo di modello quelle categorie svantaggiate quei soggetti che non si possono permettere di pagarsi il servizio rimarranno tagliati fuori dal servizio quindi soltanto i ricchi i benestanti potranno usufruire dei servizi sociali che è un'osservazione giusta ed è lì che entra in campo l'innovazione sociale cioè questo è vero se si continua a organizzare i servizi come si sono sempre stati organizzati bisogna cambiare il modello di organizzazione dei servizi e di erogazione di questi servizi ad esempio diciamo uno degli esempi classici che si portano è che questo famoso accordo tra la Grameenbank e Danone in Bangladesh era finalizzato a distribuire lo yogurt ai bambini malnutriti del Bangladesh perché esisteva e esiste un elevatissimo tasso di malnutrizione di bambini che non riescono ad accedere nemmeno a livello minimo di nutrizione Yunus ha verificato che in Bangladesh lo yogurt essendo un prodotto tradizionale veniva immediatamente accettato all'interno delle famiglie e si è posto l'obiettivo di distribuire questo yogurt quanto più diffusamente possibile a bambini che non avevano la possibilità di diciamo nutrirsi normalmente in maniera soddisfacente allora che cosa ha fatto? dice io mi alleo con la più grande azienda mondiale produttrice di yogurt che sarà quella che mi garantisce una capacità produttiva molto elevata degli standard molto elevati e così via costruisco un modello di distribuzione di questo yogurt che mi costa nulla perché lo do attraverso dei piccoli frigoriferi portatili alle mamme degli stessi bambini che all'interno dei vari villaggi andranno in giro casa per casa a distribuire quotidianamente la razione di yogurt ai bambini malnutriti per la Danone la possibilità di vendere questi ulteriori yogurt anche a un prezzo infinitesimale minimo rappresentava comunque l'apertura di un mercato all'interno del quale non sarebbe mai potuto entrare quindi la Danone ha cominciato a vendere seppure a un prezzo molto basso lo yogurt a soggetti a cui non lo vendeva avendo una capacità produttiva molto elevata era in grado ovviamente comunque di produrlo ad un prezzo molto basso questo meccanismo di distribuzione fatto attraverso le madri nei villaggi costava praticamente nulla e quindi si è arrivato a distribuire questo prodotto che aiuta bambini malnutriti ad avere almeno un minimo di diciamo di prodotto è sostenibile e ha dimostrato diciamo la sostenibilità di questo modello ma ci sono molti altri casi che si stanno sviluppando attraverso cui la sostenibilità economica viene raggiunta cambiando completamente il modello di erogazione del servizio di vendita del prodotto chiaramente non è semplice che bisogna inventarsi qualche cosa e farla funzionare in maniera completamente diversa da prima è ovvio che se rimaniamo all'interno dei modelli tradizionali difficilmente questo sarà possibile io non so se sarà possibile risolvere tutti i problemi sociali affrontare tutti i problemi sociali anche delle categorie più povere attraverso un approccio imprenditoriale innovativo creativo di questo genere può darsi di no può darsi di sì però come diceva lui nel momento in cui le risorse pubbliche stanno finendo e quindi in ogni caso non sarà possibile mantenere il modello tradizionale perché non ci saranno più i soldi per pagare l'assistenza nemmeno nei paesi sviluppati come dovrebbe essere il nostro bisogna evidentemente immaginarsi comunque delle forme nuove e creare gli strumenti perché queste forme nuove possano eventualmente affermarsi quindi questo è il cambiamento di prospettiva poi magari non funziona però la mia opinione è che continuare a chiedere soldi pubblici quando ormai è evidente che i soldi pubblici non ce ne sono più non è molto intelligente poi magari può espoddarsi che un bel giorno piovano dal cielo le risorse pubbliche però insomma in una prospettiva di medio lungo termine parlando dell'Italia con una popolazione che invecchia con una competitività dal punto di vista del lavoro che non c'è più una produttività molto bassa noi non avremo mai più le risorse pubbliche che avevamo vent'anni fa da destinare a questo scopo per giunta tutti i giovani migliori se ne vanno quindi avremo anche carenza di idee fra poco e quindi evidentemente soprattutto per un paese come l'Italia cominciare a porsi il problema di come risolvere questo questo aspetto dovrebbe dovrebbe essere importante cominciare quantomeno a ragionare su delle modalità innovative e adesso vediamo un attimo un po' alcune delle cose che stanno avvenendo diciamo ci siamo soffermati un po' più a lungo che previsto quindi probabilmente non riusciremo a vederle tutte ma tanto poi torno peggio per voi e quindi magari ne parliamo anche la prossima volta la social business initiative è diciamo l'agenda di interventi che la commissione europea ha messo in campo per favorire la diffusione del social business in Europa queste sono tutte cose vi ho messo vicino praticamente l'anno dal quale partono quindi alcune cose sono già partite altre partiranno dal primo gennaio 2014 una delle cose più interessanti che è già partita è la realizzazione di un quadro europeo di regole per lo sviluppo dei fondi di investimento sociale ora tutti quanti noi quando sentiamo parlare di fondi di investimento ci cominciamo a spaventare perché diciamo mamma mia questi sono quelli delle banche della finanza che hanno rovinato l'Europa e il mondo intero ebbene la commissione europea ha creato le condizioni perché si possano creare dei fondi di investimento dedicati alle imprese sociali due di questi fondi sono già nati sono in Lussemburgo sono stati creati in Lussemburgo e ora non è che i lussemburghesi o meglio gli uomini di finanza che hanno sede in Lussemburgo siano improvvisamente diventati buoni cioè ieri ci affamavano e oggi all'improvviso e che evidentemente c'è un mercato un fondo è stato creato da Deutsche Bank un altro da Credit Cooperative che è la rete delle banche di credito cooperativo francesi entrambi cofinanziati dal fondo europeo degli investimenti adesso cominciare a porsi il problema che stiano nascendo dei fondi di investimento dedicati alle imprese sociali vuol dire che almeno qualcuno pensa che le imprese sociali possano essere un soggetto sul quale investire questo era come dire la sigla mi soffermerei su su questi altri aspetti uno è il fatto che è stato creato nell'ambito di questo quadro è stato creato uno statuto europeo delle cooperative uno statuto europeo delle fondazioni cioè dei soggetti che possono operare una volta riconosciuti indipendentemente in tutti i paesi dell'Unione Europea 27 quindi una cooperativa che sia riconosciuta come cooperativa europea può operare senza confini in tutti i paesi dell'Unione così come le fondazioni la famosa libera circolazione eccetera eccetera quindi si sta lavorando per creare le condizioni perché il mercato europeo diventi un mercato aperto alle imprese sociali ed è interessante che queste modifiche che in una visione come dire tradizionale dovrebbero stare in capo che ne so al Ministero delle Politiche Sociali e quindi come dire a Direzione Generale della Commissione Europea che si occupa di politiche sociali invece no sono in capo alla direzione che si occupa del mercato comune quindi vengono trattate allo stesso modo di tutte le altre imprese vengono trattate allo stesso modo di tutti gli operatori della finanza perché sono diventate un elemento che fa tutti gli effetti parte del sistema economico europeo non sono più diciamo oggetto soltanto di politiche sociali rientrano a tutti gli effetti nel modello economico che l'Unione Europea vuole costruire vi ho già detto del programma ISI ho già accennato al fatto che i programmi regionali di cui non abbiamo ancora il quadro complessivo dovranno avere tra le proprie priorità anche questi temi anche lo sviluppo del social business dovrà essere inserito bisogna vedere come i programmi operativi nazionali e regionali andranno a declinare questi elementi però ci dovranno evidentemente essere questo ovviamente vuol dire che ci potrebbero tranquillamente essere nel prossimo futuro dei bandi dedicati a servizi sociali a cui possono partecipare anche le SRL per rimanere nella nostra legislazione questo vi ho già parlato e questi sono alcuni degli strumenti e diciamo dei casi di maggiore successo che questa nuova questa nuova il bag questa nuova moda dei del social business ha visto sviluppare in giro per il mondo i social impact bond le competition i camp gli incubatori sociali alcuni di questi di queste sigle forse le avete già sentite nominare hub per esempio c'è anche a Bari e i social impact bond per esempio dei social bond sono stati emessi da banca etica recentemente piuttosto che da da Ubi banca anche se non sono diciamo proprio il concetto di cui andiamo a parlare ma cominciano ad arrivare anche in Italia alcune di questi alcune di queste esperienze che sono per lo più nate in un contesto anglosassone uno dei casi forse quello di di maggiore successo a parte le 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 iniziative di Yunus di cui vi dicevo prima è questo dei delle obbligazioni ad impatto sociale che sono state inventate da un'organizzazione inglese che si chiama social finance e che servono proprio per fronteggiare quella carenza di risorse pubbliche di cui dicevamo cioè a un certo punto il ministero degli interni inglese non era più in grado di sostenere le spese derivanti dal reinserimento dei diciamo dei detenuti nella vita sociale e lavorativa quindi questi uscivano dal carcere e il ministero non aveva più abbastanza risorse da mettere in piedi dei programmi di reinserimento efficaci il carcere di Petersburg insieme con social finance ha elaborato un modello estremamente innovativo per cui sostanzialmente la cosa non è semplicissima cerco di rendervela più semplice possibile social finance è un'organizzazione finanziaria a tutti gli effetti che emette un'obbligazione ci siamo questa obbligazione la vende ai risparmiatori io emetto l'obbligazione ve la vendo e vi dico compratevi questa obbligazione e io fra cinque anni vi restituisco i soldi che mi avete dato oggi e vi pago un interesse X se l'obbligazione andrà bene come funziona per tutte le obbligazioni sul mercato finanziario normale in tutto il mondo i soldi che io raccolgo i soldi che social finance ha raccolto vengono dati a delle organizzazioni che si occupano di reinserimento dei detenuti il ministero degli interni dice se queste organizzazioni riescono dopo cinque anni a garantirmi che il tasso di recidiva cioè il tasso di ritorno in carcere dei detenuti è sceso al di sotto di un limite che abbiamo stabilito io ministero pago a te social finance un premio una cifra io social finance con questo premio pago l'interesse a quelli che mi hanno prestato i soldi con questo meccanismo il ministero degli interni non si fa più carico di tutta la spesa necessaria per il reinserimento dei detenuti ma si fa carico soltanto della quota di premio che viene riconosciuta a social finance e soltanto nel caso in cui le organizzazioni a cui questi soldi sono stati dati riescano a raggiungere l'obiettivo se le organizzazioni non riescono a raggiungere l'obiettivo il ministero non tirerà fuori nemmeno questo premio il ministero dovrebbe anche ricorsare cioè io ho acquistato l'obbligazione quindi comunque devo ricorsare il pro dominare quindi alla fine il governo dovrà pagare anche e come ricordi ritorno del mio investimento che emettono nuovi bond sempre social finance c'è il rischio di investimento cioè se le organizzazioni non raggiungono il risultato i risparmiatori che hanno comprato questa obbligazione non avranno il loro interesse come può avvenire diciamo per qualunque titolo obbligazionario finanziario eccetera questo meccanismo che viene definito appunto contract by result cioè è un contratto basato sui risultati è un meccanismo che è stato inventato in Inghilterra e che ha immediatamente fatto il giro del mondo e alcune delle principali banche d'affari americane JP Morgan Goldman Sachs hanno cominciato a emettere questo tipo di strumenti per per fare danni può darsi per fare danni anche in questo settore però come dire lì siamo abbastanza sicuri che non è che siano diventati buoni all'improvviso e quindi probabilmente anche loro hanno annusato che il mercato si sta sviluppando e questo è un ovviamente un esempio interessante rispetto al quale però bisogna fare alcune riflessioni i vantaggi di questo strumento sono che la spesa pubblica si riduce moltissimo ora immaginate che questo strumento l'esempio è per i detenuti potrebbe essere il tasso di recupero dei bambini di cui stavamo dicendo prima quelli che abbandonano la scuola potrebbe essere il tasso di guarigione di un certo tipo di malattie si però allora social finance è una società è una social finance quindi non è come abbiamo sono giorni ora loro emettono dei conti arrivano gli investitori tra 5 anni quindi vanno degli interessi ma se i bondi funzionano si i bondi funzionano ma c'è poi lo Stato promette l'associato c'è l'identità pubblica promette la social finance questa vuota di questo premio è il caso in cui l'obbittivo è raggiunto ma social finance come fa a ottenere l'incresi del protettore degli investitori distribuisce il premio cioè social finance non è l'inserimento dei carcerati social finance finanzia poi con questi soldi i rapporti finanzia le organizzazioni che si occupano del ricordo del reinserimento di un'ambiente e come vanno a dare l'interesse ai gestori è il premio che viene distribuito cioè il ministero se le organizzazioni riescono a raggiungere l'obiettivo il ministero vaga un premio diciamo non è un vero e proprio interesse diciamo viene distribuito questo premio tra tutti coloro che hanno acquistato questo bond i soldi diciamo il premio non terrebbe pagato però questo non è finanziamentico è diabolico perché se vuoi la società social finance non raggiungere il interesse sociale raggiunge l'obiettivo ecco questo infatti questo è uno degli elementi che vi ho messo dallo spandacchio cioè se non si raggiunge un obiettivo non è ad alto rischio non è ad alto rischio perché innanzitutto cioè diventa ad alto rischio nel momento in cui l'organizzazione che fa il reinserimento dei detenuti non è capace di fare il suo mestiere però noi stiamo partendo dal presupposto che i soldi vengano dati a chi lo sa fare il suo mestiere ovviamente quando un'organizzazione del genere hanno tutti gli interessi a dare delle leggi a non interesse a non essere delle persone politiche esatto non si è una cosa di romanzo perché se non è quello che c'è il premio per pagare per comprare capire diciamo qual è il passaggio diciamo culturale che viene fuori in questo caso per dire l'investimento su social finance lo sono sicuro c'è del prezzo delle lezioni che già fai se vede che ha un riesce a impiegare i soldi che vengono dati in modo che se no io non investirei ma e avrebbe investire a fare la persona generale infatti il ragionamento è proprio questo che soltanto le organizzazioni sociali che saranno in grado di mostrare e di raggiungere i propri obiettivi diventeranno meritevoli di ricevere i soldi raccolti la selezione di queste organizzazioni che in questo caso la fa la social finance ovviamente la stessa social finance che ha interesse come diceva lui a scegliere le organizzazioni più brave e le organizzazioni dovranno dimostrare di essere brave se vogliono avere i soldi in realtà il social finance finanzia a sua volta queste organizzazioni che si occupano di inserimento di recupero quindi è un finanziamento che poi dovrà essere restituito cioè queste organizzazioni saranno restituire normalmente a questo finanziamento e la quota capitale come saranno rimborsate? la quota capitale sarà rimborsate perché attraverso l'emissione di altro debito ma vizioso dipende dal punto di la logica è creativo la logica ma la logica in questo caso è che finché le organizzazioni che vengono finanziate raggiungono l'obiettivo ci guadagnano tutti il problema è nel momento in cui vengono finanziati quelli che non raggiungono il risultato il problema è quando vengono finanziati quelli che sono pagati pubblici per anche la casa che hanno acquistato però è sempre meno rischioso del perché ma è sempre meno rischioso del mercato finanziario normale tant'è vero questi strumenti per adesso però qui non si può fare non si può fare come no faccio un corso di informazioni professionalizzanti perché per ogni scelte assurdo in un'azienda c'è il freno ma sicuramente il trucco è certo in un'azienda non si può smettere le attività in maniera le attività iniziate a dire come ne dicevano per finitagio il famolo che ci sono grandi attività non si avviterà mai ma in questo caso in questo caso fare il tuo show non eliminare l'attività ho capito che tu già sei entrato nell'ottica diciamo io come posso aggirare questa cosa e fare una passione ma questo diciamo in teoria con la mentalità italica questo potrebbe nel caso specifico il risultato il risultato è sul tasso di reinserimento di tutti quelli di quel carcere ma sicuramente dovrebbe chiedere i tuoi creati i tuoi disegni ma non lo so chi è che ci sta in quel carcere però questo può essere però magari ci può essere un'organizzazione particolarmente brava che ti riapposita anche il camorrista non lo so non lo so ma noi ci sono i capi non lo so quindi non c'è bisogno comunque appunto le ubb... No, in Italia non si può fare. Attualmente in Italia questo strumento non si può utilizzare, ma non perché siamo culturalmente abituati a trovare la scappatoia, ma sostanzialmente perché in Italia gli unici che possono emettere titoli e venderli sul mercato sono praticamente le banche. E le banche non possono vincolare l'investimento ad uno specifico problema, cioè non c'è la possibilità di emettere un'obbligazione e dire poi io ti pagherò un interesse legato, cioè la normativa attualmente non lo consente. Però uno degli elementi di discussione in corso è provare a vedere se si può introdurre anche in Italia. In un recente convegno la Cancellieri ha parlato della possibilità di utilizzare uno strumento come questo per la faccenda dell'amnistia e dell'indulto per favorire il reinserimento. Non è una classica obbligazione. Perché ovviamente non si parla di un'obbligazione che poi tu puoi andare a rivendere sul mercato quando vuoi, però insomma quello che si è visto è che innanzitutto il tasso di rischio è basso. Perché le organizzazioni sociali falliscono molto di meno rispetto alle organizzazioni dell'economia in generale. Hanno una capacità di restituzione delle risorse che è molto più alta rispetto a quella delle organizzazioni tradizionali, sono più affidabili. E quindi ovviamente se tu investi in un soggetto che è più affidabile il tuo tasso di rischio è più basso e ovviamente in qualunque mercato dove il tasso di rischio è più basso anche l'interesse è più basso. Quindi se io per investire in un'azienda che produce armi per fare la guerra in Siria investo e guadagno un interesse del 20%. E' chiaro che se investo in un'iniziativa sociale guadagno un interesse molto più basso, però è anche vero che se finisce la guerra in Siria oppure se si scopre che quell'azienda sta vendendo le armi in Siria, quell'azienda chiude. E quindi il mio tasso di rischio sarà più alto e ovviamente mi devono dare un interesse più alto. Ma entriamo in questo... Però il punto interessante è che quelli che investono in questi strumenti di questo tipo sono non in questo momento i singoli risparmiatori, ma sono i grandi fondi internazionali. Per esempio i fondi pensione cinesi stanno investendo in strumenti di questo tipo, perché i pensionati cinesi non vogliono un investimento ad alto rischio, vogliono un investimento a basso rischio, con un basso interesse che gli viene riconosciuto, ma perché non sia molto rischioso. E quindi il mercato, diciamo, del sociale, chiamiamolo così, dell'impresa sociale, come l'abbiamo definita oggi, è un mercato a basso rischio, magari a basso rendimento, ma che può essere molto interessante per quegli investitori istituzionali che sono prudenti. Quindi diventa... e la stima è che, diciamo, nei prossimi tre anni ci saranno circa 500 miliardi di dollari che verranno investiti in questo settore, che è più o meno un quarto del PIL italiano, non con questo meccanismo. In generale, però al momento, questo è il meccanismo, diciamo, di maggiore successo, di maggiore diffusione, perché in tutti i paesi anglosassoni, in Stati Uniti, in Australia, in Canada, in Israele, ormai si sono diffusi strumenti di questo genere. La nuova legge sull'economia sociale francese li prevede, non è stata ancora approvata in discussione, e quindi comunque si sta diffondendo abbastanza. In Italia se ne è cominciato a parlare, appunto c'è stata questa intervista da Cancellieri che ha lanciato questa ipotesi. Vedremo che cosa succede, probabilmente ci vorranno dieci anni perché una cosa di questo genere si possa fare in Italia. Però le obiezioni che voi avete sollevato, diciamo, sono appunto qui, insomma, sono tutte obiezioni assolutamente legittime. C'è evidentemente una selezione delle organizzazioni in base alla loro efficienza. Che in un contesto come l'Italia, dove in genere si cerca di aggirare la norma, fare una selezione, una scrematura, in base alla capacità di raggiungere i risultati, sicuramente male non fa. Anche il discorso della professionalizzazione delle risorse. Nel terzo settore italiano è tutto molto arrangiato. È chiaro che per poter raggiungere obiettivi dovrai avere persone che sappiano fare il loro mestiere. Non puoi prendere a uno perché ti costa di meno. Devi prendere uno che sia più bravo a fare... E i fondi te li danno loro, se riesci a essere efficiente. Se riesci a essere efficiente, i fondi non avrai più problemi di approvvigionamento con uno strumento del genere. Se poi non ci riesci, chiudi. E tutto sommato male non è. Chi è? Ci spende di meno. Ci spende di meno. Se io, come ente pubblico, dovrei coprire gli interessi e rivelare, rappresentare gli interessi della prolettività. Io ti do il premio. Hai riduttato? Ok. Se no non tieni. Ciao, ciao non tieni la scuola. Non c'è tanto, ciao non tieni la scuola, ma lo Stato non paga più tutte le spese. Perché altrimenti dovrebbe pagare tutte le spese. Non pagherà più tutte le spese, pagherà solo il premio. Quindi comunque, anche se si raggiunge l'obiettivo... No, ma anche se si raggiunge l'obiettivo... Spenderà comunque le limite. Spenderà comunque le limite. E potrà utilizzare quelle risorse per fare un'altra cosa. Un altro strumento è questo delle competition. Un esempio è quello che vi dicevo prima della social innovation competition dedicata a Diogo Vasconcelos. Cioè che cosa si fa? Sono una specie di concorsi internazionali di idee, tipo quelli che si fanno in architettura. Cioè che facciamo sto ponte e vi presenta i progetti per fare il ponte. In questo caso sono dei concorsi di idee molto semplificati rispetto ai bandi normali. In genere non c'è un'application strutturata, ma semplicemente una pagina in cui si presenta la propria idea. E poi se l'idea risulta tra le migliori ci si lavora su assieme per svilupparla. Con dei premi che possono essere più o meno alti a seconda di chi li fa. Questo dalla Commissione Europea sono 30.000 euro mi pare per i vincitori, ma ce ne sono anche fatti da fondazioni private. Infatti, veramente in giro per il mondo ormai se ne trovano una quantità industriale, vanno molto di moda, sia per i giovani, sia su problemi specifici. E' stato fatto, ce n'è attualmente uno aperto solo per la Lombardia, fatto alla Fondazione Cariplo sulle idee per iniziative di carattere culturale. Insomma, ormai è uno strumento che è molto veloce, richiede tutto sommato un impegno abbastanza limitato. Quindi ci sono sempre molte idee che arrivano. Evidentemente è anche un modo per raccogliere delle idee su quello che si potrebbe fare in un determinato settore. Quindi anche qui, da un lato... L'idea che viene proposta è proprio la notiziere di un nuovo direttore, diciamo, come i prodottisti. L'idea io te la vedo, però... Questo dipende. Cioè, c'è la valuta, ma poi... Quasi in tutti i casi poi viene realizzata da chi l'ha proposta. Ci possono essere casi in cui tu dici, io ti do il premio e mi hai ceduto l'idea, però è molto raro. In genere viene premiato chi l'ha proposta e viene accompagnato a realizzarla sempre chi l'ha proposta. Vi dicevo, Nesta, questa organizzazione inglese fa ormai competition su tutto. L'ultima volta che sono stato a Londra stavano facendo una competition su come ridurre il tasso di furti di biciclette nelle aree metropolitane inglesi. E quindi c'erano questi che presentavano le idee, tipo chi toglieva il sellino, chi attaccava tutta una serie di sistemi per cercare di evitare. Quindi, insomma, ce n'erano veramente di tutti i colori. Ormai il successo di Nesta è appunto dimostrato dal fatto che viene chiamata in giro per l'Europa a gestire competition di questo genere. Addirittura la Banca Europea degli Investimenti ne ha fatte già due edizioni e credo che adesso ne lanceranno una terza, quindi la Banca Europea degli Investimenti, cioè una cosa seria, ormai fa questo tipo di iniziative. Anche qua ci sono evidentemente vantaggi e svantaggi, sto cominciando a cedere fisicamente, ci sono, non so perché se mi hanno detto che alle 5 e mezzo dobbiamo finire. Se ne è andato Roberto? Sì, se ne è andato qua. Se ne è andato qua, quindi direi a questo punto sono i 5, andiamo avanti a esaurimento. Dicevo, anche qui ci sono evidentemente dei svantaggi di questo genere, è chiaro che CostaPoco ottiene un grande ritorno in termini di idee, tutto sommato essendo schede di una pagina si fa anche una selezione piuttosto veloce rispetto ai classici bandi e le application che sono più strutturate, ed è una cosa vendibile anche dal punto di vista della comunicazione, perché si dice facciamo stato concorso per risolvere questo problema sociale. Chiaramente ha un ritorno di immagine abbastanza spendibile. Ovviamente ci sono alcuni svantaggi che cominciano a emergere, per esempio ci sono quelli che partecipano a tutti questi concorsi e non realizzano mai l'idea che vanno proponendo. Cioè, come dire, ci sono una specie di professionisti della competition, ti candidi sempre, affini diciamo questa modalità di presentazione, ma poi non realizzi mai l'idea che stai presentando. In alcuni casi sì, in alcuni casi ti danno un premio per l'idea, 10, 15, 20 mila euro, tu ti prendi il premio, te lo intaschi e sono fatti tuoi. In altri casi invece poi ti danno proprio i soldi per realizzarla, in altri casi la realizzano assieme a te, insomma quindi ci sono magari sponsorizzandola, magari affiancandola, però sono veramente tante e quindi le modalità sono molto diverse. E un elemento, diciamo, un paio di elementi che possono essere critici sono innanzitutto il fatto che ovviamente se c'è un soggetto, soprattutto se è privato, che ti finanzia la realizzazione di una determinata idea, tu sei portato a realizzare l'idea come dice lui. Quindi magari non è il modo migliore, ma è il modo migliore per il soggetto che te lo sta finanziando. Se il soggetto è privato questo può creare un problema rispetto all'interesse collettivo. E l'altro elemento è che, questo l'abbiamo sperimentato anche in alcune competition che abbiamo gestito direttamente, è che se le idee vengono da soggetti internazionali in un altro paese, eccetera, quando poi vai a realizzarle effettivamente in un determinato contesto, questi soggetti che magari hanno avuto un'idea brillante però si arenano rispetto alla realizzazione concreta perché si scontrano su un contesto diverso da quello di provenienza, che a noi è capitato per esempio di alcuni ragazzi olandesi che avevano vinto una di queste competition a Napoli fatta proprio con Unicredit e chiaramente però loro pensavano di poter modificare l'approccio organizzativo di una organizzazione di volontariato che faceva teatro per i bambini trasformandola in un'organizzazione che fosse in grado di fare teatro per i bambini ma anche di vendere, come dire, attraverso CD su piattaforme web il modello, quindi di standardizzare il loro modello di educazione al teatro per i bambini e di venderlo in tutto il mondo creando dei supporti che potessero poi essere utilizzati per tutti coloro che nel mondo volessero fare educazione dei bambini al teatro si sono scontrati proprio sulla resistenza di questa organizzazione che non riusciva a capire che certe cose le doveva fare in un determinato modo perché potessero essere standardizzate e quindi adattate in tutto il mondo diciamo c'era un livello di improvvisazione nell'affrontare le varie cose per cui pensare di standardizzare, omologare la risposta in modo che andasse bene per tutti era un qualcosa che non riusciva, non sono riusciti a ricepire quindi nonostante un paio d'anni di lavoro e circa 20.000 euro che avevano a disposizione per fare questa cosa in realtà poi non ci sono riusciti e quindi non hanno potuto utilizzare gli altri 200.000 euro che erano disponibili per realizzarla e per partire effettivamente così come un altro caso che mi è capitato è quello di una villa confiscata ad un boss a Posillipo che è uno dei quartieri più chic di Napoli ovviamente il boss aveva la villa con la piscina con vista sul golfo e 5.000 ettari di terreno alle spalle e qui praticamente c'era una ragazza che aveva proposto peraltro diciamo di Nola quindi vicino Napoli che aveva proposto di farci un centro diciamo di economia verde cioè di coltivare e creare dei percorsi di formazione legati a orti sociali, tutta una serie di cose ma non si è integrata con il soggetto che aveva la proprietà, cioè la proprietà, che aveva la gestione che aveva avuto la gestione da parte del comune di questa villa che invece aveva tutta una sua idea di attività da fare su questa villa e benché avesse dato la disponibilità ad utilizzarla per realizzare idea vincitrice di questo concorso in realtà andando poi al dunque voleva semplicemente avere i soldi che questa ragazza avrebbe portato per realizzare le cose che avevano loro in mente e quindi in realtà anche lì organizzazioni di terzo settore tradizionale anche lì non sono riusciti poi a farla per cui insomma trasferire una buona idea in un contesto diverso rispetto a quello di origine o semplicemente un'idea nuova rispetto a come si è sempre fatto evidentemente trova sempre delle grandi resistenze però è un altro modo per stimolare il fatto che vengano fuori idee certo quello è chiaro però è evidente che così questa competition che facemmo con un mese un mese e mezzo di apertura avemmo circa 200 idee progettuali più o meno da una 35-40 paesi del mondo ovviamente se avessimo chiesto preparato un application un formulario un bando innanzitutto ci vorranno due mesi solo per preparare il formulario il bando eccetera eccetera poi traducilo in tutte le lingue come fai già tradurlo solo in inglese sarebbe diventata un'impresa chiedere ad altri di altri paesi di presentarti delle idee che gli chiedi di scrivere inglese significa che tu devi avere una batteria di valutatori che sappiano leggere l'inglese quanto meno una cosa è che leggi una pagina è una cosa leggere 30 pagine di un formulario e quanto ti costa avere una batteria di valutatori di progetti di questo genere alla fine sarebbe diventato molto più costoso molto più lungo avresti avuto molte meno risposte e in fondo quello che era interessante era vedere che tipo di idee venivano proposte piuttosto che poi in quella fase diciamo vedere se si potevano realizzare davvero quindi è diciamo uno strumento diverso altri strumenti che stanno avendo molto successo sono i cosiddetti camp o gli incubatori l'hub di Bari è uno degli esempi di questi modelli diciamo sostanzialmente sono più o meno tutti come dire lo stesso modello hanno una varietà legata a quanto a lungo il soggetto che vuole realizzare una determinata idea è a contatto con queste strutture quindi i camp sono due o tre giorni gli incubatori ci puoi stare dentro due anni quindi hanno un processo molto più complesso però il concetto è quello di affiancare sostenere lo sviluppo di idee sin dalla fase embrionale fino praticamente al momento nel caso del processo più completo fino al momento in cui non siano diventate delle vere e proprie imprese che sono in grado poi di mantenersi da sole e quindi di uscire da questo processo e stare in piedi da sole sul mercato poi i modelli sono molto vari per esempio il modello di hub anzi di impact hub come si chiama adesso perché hanno cambiato nome gli impact hub partono dal presupposto di essere un luogo dove persone che hanno delle idee possono incontrarsi scambiarle anche con soggetti che hanno un'estrazione diversa quindi gli ingegneri con gli umanisti gli artigiani con gli operatori sociali quindi un luogo dove si mescolano le competenze dove si può lavorare assieme attraverso una facilitazione che viene fatta da persone che lavorano all'interno degli hub perché queste idee diventano sempre più concrete e possano poi usufruire di servizi di supporto anche consulenziale che vengono dati all'interno dell'hub ed eventualmente in alcuni casi come quello di Bari che è grande hanno anche degli spazi dove poi possono insediarsi nelle fasi nei primi mesi nei primi anni di vita potendo, diciamo, essere supportati dai servizi forniti dalla struttura alcuni si chiamano acceleratori di impresa alcuni si chiamano incubatori sono sempre più focalizzati sul sociale sono sempre più presenti anche in Italia quelli più famosi sono appunto il Social Innovation Camp lo Startup Weekend Cockpit e Fab Lab sono molto incentrati sull'artigianato ad esempio Fab Lab è un modello attraverso cui degli artigiani attraverso diciamo collegamenti online a distanza con tutto il mondo possono lavorare ad un prodotto in contemporanea con uno che sta in Messico e sta lavorando su un prodotto simile lavorando praticamente quasi assieme confrontandosi continuamente sulla lavorazione e sulle modalità di lavorazione di un determinato prodotto quindi in questo caso le modalità sono molto varie anche qui abbiamo degli elementi diciamo di vantaggio e di svantaggio che sono che possono essere legati a questo a questo modello io mi soffermerei sul fatto che è un posto dove è facile attirare investitori e poi alla fine gli investitori di cui parlavamo prima vogliono avere un flusso di proposte tra le quali scegliere quelle che li convincono di più dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'impatto sociale che vanno a generare è chiaro che se hai un posto dove ci sono tante idee e tanta gente che lavora assieme è più facile creare un rapporto con un investitore che magari viene lì periodicamente si sceglie le cose che gli interessano di più ha la possibilità di vederne tante in modo continuo e quindi è facile attirare investimenti da questo punto di vista lo svantaggio diciamo è ancora una volta quello che si può generare una come dire un approccio eccessivamente standardizzato è difficile che perché si tratta di in genere di network internazionali di modelli internazionali è facile che si venga diciamo così affascinati da come una cosa si fa a Londra piuttosto che a New York o a San Francisco e quindi si cerchi automaticamente di riportarla nel proprio contesto anche quando nel proprio contesto non c'entra niente un esempio che io faccio sempre è che una dei principali fonti di ricavo per la rete degli hub è praticamente il diciamo il fitto della scrivania a ore la possibilità di fittare la scrivania 5 ore al mese ed utilizzarla quando ti serve fino a concorrenza di quelle 5 ore al mese ora questo modello è un modello che funziona innanzitutto laddove c'è un sacco di gente che transita quindi è chiaro che a New York a San Francisco a Londra dove hai milioni di persone che transitano magari un giorno in quella città ma non ci vivono e ci vanno per lavoro hai un mercato a cui offrire questo tipo di servizio di noleggio della scrivania e della connessione internet a ore molto ampio è chiaro che se lo fai a Galatina ma direi anche a Napoli non hai lo stesso mercato di riferimento un altro elemento molto interessante è che in Italia soprattutto al sud noi abbiamo l'abitudine credo tutto sommato anche qui a Napoli di sicuro di parlare di affari a tavola oppure prendendosi il caffè al bar la prima cosa che facciamo a Napoli quando c'è un incontro di affari prendiamo il caffè infatti diciamo che a Milano manco il caffè pagano però è un modo per avviare una relazione di lavoro è chiaro che se hai questo tipo di approccio avere un posto che è quello dove tu normalmente lavori e dove prendi anche il caffè ti impedisce di andare fuori a prendere il caffè e quindi diciamo in qualche modo rompe un'abitudine alla quale siamo invece legati nei nostri territori creando diseconomia ai bar che poi non vendono più il caffè così come a Londra per esempio uno degli hub il più figo in assoluto è quello di Westminster che ha circa un migliaio di scritti e fattura due milioni di euro l'anno è però un posto dove ci sono contemporaneamente a lavorare là dentro anche 200 250 persone che ognuno è seduto alla sua scrivania con il suo computer e non parla con quello che è seduto accanto perché quelli quando lavorano lavorano ora immaginate 200 persone 200 giovani dentro la stessa stanza a Galatina o a Napoli non ne parliamo proprio quindi è chiaro che non diventerebbe una situazione in cui lavorare probabilmente è impossibile quindi esistono evidentemente una serie di abitudini culturali insomma locali di cui bisogna tenere conto nell'importare questi modelli e che devono essere evidentemente adattati e probabilmente il modello in sé così teorico non funziona ma con degli adattamenti che tengano conto della realtà locale invece può funzionare sì dalle queste professore io ho visto in realtà mi ha dato il bagno di Napoli diciamo che un po' a Napoli non c'era l'hai visto? no a Napoli c'era ah quello di Giuliano Giuliano ah vabbè quello è fasuro non abbiamo fatto anche l'alba traccato perché non è Napoli andiamo sempre tra prima Giuliano di Giuliano sì praticamente sono delle realtà molto belle perché diciamo c'è questo è possibile scambiarsi informazioni ci sono varie professionalità che seguono tutte come ha spiegato però ho visto anche che nel tempo sembra che le attività si stiano standardizzando tanto a Napoli quanto a Bari e alla fine credo ah non lo so che si arrivi in un certo modo a calibraizzare il mercato perché poi a un certo punto che si diventa satura perché se tutti lavorano sullo stesso progetto con questo scambio liquido di informazioni di qualsiasi a quel punto che c'è chi va avanti qual è chi è il vincente tra tutte queste realtà di incubatori che stanno creando se sono sempre se stanno diventando tutte quindi uguali perché poi alla fine sono attività molto simili quelle che vanno a fare quello diciamo molto sul modello ufficiale di Impact Hub che è quello di Bari Bari Roma Milano Firenze Trieste Trento e Siracusa sono quelli diciamo del network ufficiale diciamo loro hanno un modello internazionale di riferimento a cui fanno capo e che è abbastanza standardizzato ovviamente poi c'è gli adattamenti locali ad esempio a Roma hanno fatto il bar dentro Lab che a Milano non c'è o a Londra non c'è nel senso che a Londra hanno il fatto che tu puoi farti da solo il tuo il tuo caffè a Milano c'è la cucina dove puoi farti il caffè a Roma invece hanno fatto proprio il bar che sono più pigri i romani quindi non è che lo facciano da soli e lì dipende molto ovviamente dalla bravura di quelli che loro chiamano host cioè dello staff che è all'interno del Lab e che deve avere la capacità di creare i collegamenti tra le persone giuste che possono lavorare attorno a un'idea e i collegamenti con la rete internazionale Lab di Giuliano che diciamo è taroccato nel senso che non fa non fa riferimento al network internazionale ha copiato diciamo il modello solo che poiché per iscriversi al network internazionale bisogna pagare 15.000 euro loro non si sono iscritti hanno fatto la stessa cosa però senza pagare questa fee e così come in molti altri casi in giro per l'Italia lì l'esigenza era un po' diversa loro avevano una struttura con determinate caratteristiche molto bella nel centro del paese con paese poi Giuliano c'è 120.000 abitanti quindi è proprio un paese e e quindi dovevano utilizzare questa struttura e hanno quindi costruito una serie di servizi in funzione della struttura che avevano a disposizione quindi diciamo la logica è un po' diversa però per evitare il rischio che dicevi tu sta alla bravura delle persone che lo gestiscono e poi alla fine il nodo è sempre quello se hai delle persone che sono effettivamente in grado di creare questi collegamenti e di facilitare la creatività allora tu avrai tante idee che vengono fuori invece si affidi completamente ad un processo standardizzato di incubazione è chiaro che alla fine più o meno vanno a finire tutti quanti allo stesso risultato che è quello dove tu li conduci insomma cioè dove nella ripetitività li conduci un esempio di processo molto strutturato è quello per esempio del Social Innovation Park di Bilbao dove hanno sostanzialmente un hub poi quelli che escono fuori da quest'hub con un'idea vengono trasferiti nel palazzo a fianco dove gli fanno l'incubatore con la consulenza più professionale e personalizzata e dopo di quelli che passano nel palazzo ancora a fianco dove fanno proprio il loro ufficio autonomo e vanno avanti in modo indipendente quindi hanno creato un processo che anche fisicamente è diviso in più spazi per cui da una parte c'è solo la creatività quindi tu c'hai una stanza rotonda con la musica ti butti per terra steso sopra dei materassi e stai lì e pensi ed elabori insomma con una serie di luci stroboscopiche che stanno in giro che facilitano il fatto che tu possa pensare dopodiché esci dall'addentro tutto stonato e cominci a parlare con gente che fa tutt'altro che è uscita dalla stessa esperienza per vedere fuori che cosa ne viene si insomma non so se se fanno uso anche di droghe però comunque non so se fanno uso anche di droghe insomma per facilitare questi processi però è quello è un progetto per esempio finanziato dalla regione basca dal governo basco insomma si è ridotto così e quindi però c'è una serie di servizi che rimettono a loro tipo quadrologico messo la loro possibilità che poi vanno a finanziare quelle attività imprenditoriali più meritevoli c'è un gruppo di esperti consulenti che offrono altri servizi gratuiti solo per la fase iniziale ma ovviamente i step successivi devono essere finanziati da noi stessi o capitale proprio o capitale questo investito se diciamo che nella prima fase sono finanziati poi quando passi nel secondo palazzo devi pagarti le ore di consulenza se passi nel terzo palazzo paghi l'affetto è un diciamo è un modello di sostenibilità appunto anche con o no è chiaro cioè c'è chi ti motiva però diciamo questo per dire che ci sono evidentemente modelli però poi alla fine tutto dipende dalle persone che lo gestiscono cioè qualunque modello può essere bellissimo ma se poi quello che lo realizza e qui diciamo vi faccio un esempio le cooperative sociali in Italia sono state un'innovazione di grandissimo livello vent'anni fa cioè qualcuno si è messo lì ha tirato fuori un modello di inserimento per categorie svantaggiate che non esisteva e ci ha fatto su una legge che ha generato oggi 15.000 cooperative sociali esistenti ma immaginate in questi vent'anni quante ne sono state quanti soggetti svantaggiati hanno avuto accesso al mercato del lavoro grazie a questo strumento è chiaro che l'innovazione che c'è stata vent'anni fa se tu continui a riproporla sempre uguale ovviamente non è più innovativa può non essere più adatta alla realtà attuale quindi se all'epoca immaginare un modello che prevedeva che l'ente pubblico potesse darti direttamente un incarico se tu garantivi l'inserimento lavorativo di quelle persone era estremamente innovativo oggi che l'ente pubblico l'incarico non te lo dà più perché i soldi non ce ne sono più se tu continui a insistere su quel tipo di innovazione è chiaro che non funziona bisogna cambiarlo quindi in ogni campo diciamo se diventa standardizzato e ripetitivo dopo un po' va a finire fuori mercato e dicevo queste sono un po' quelle che sono le cose che attualmente si stanno facendo in Italia rispetto a queste innovazioni vi accennavo i social bond di UbiBanca con CGM CGM è il più grosso consorzio italiano della cooperazione sociale ha fatto un accordo con UbiBanca per cui UbiBanca emette delle obbligazioni che non sono come quelle che vi ho detto prima sono obbligazioni normali come tutte le altre vendute sul mercato finanziario normale senza premi senza intervento dei ministeri cioè proprio normali che però utilizzano i fondi raccolti per finanziare le iniziative che vengono realizzate dal gruppo CGM e da tutte le varie centinaia di cooperative che fanno parte del gruppo CGM in tutta Italia ed è uno strumento che ha avuto un successo di diffusione anche molto rapido un esempio interessante di crowdfunding avete sentito parlare sicuramente tutti quanti perché è un'altra di quelle parole che uno va in televisione e dice faccio crowdfunding e quindi mazza quanto sei figo però nessuno ha capito né quello che lo fa né quello che lo dice di che sta parlando quando parliamo di crowdfunding significa sostanzialmente raccolta su internet di denaro possono essere donazioni possono essere prestiti ma sostanzialmente sono piattaforme su internet che servono a raccogliere soldi Banca Prossima che è la banca dedicata dal gruppo Intesa San Paolo a lavorare con il terzo settore e lavora esclusivamente con il terzo settore ha messo su una piattaforma che si chiama Terzo Valore che ha un po' queste caratteristiche del crowdfunding cioè sostanzialmente se il parroco esempio classico se il parroco vuole aggiustare il campanile della sua parrocchia e non ha i soldi per farlo va su questa piattaforma però deve essere cliente di Banca Prossima va su questa piattaforma mette lì il suo progetto di ristrutturazione del campanile i suoi fedeli invece di mettere i soldi nel cestino in chiesa li danno li mettono su un conto di Banca Prossima e quando si raggiunge il 50% della spesa necessaria per ristrutturare il campanile l'altro 50% ci lo mette Banca Prossima e chiaramente quelli che mettono questi soldi riceveranno non riceveranno interesse rispetto ai soldi che hanno messo su questo progetto mentre invece il parroco dovrà pagare l'interesse sui soldi che ci mette Banca Prossima chiaro che complessivamente avrà il vantaggio di avere un interesse più basso rispetto a quello che avrebbe dovuto pagare se Banca Prossima gli avesse prestato tutta la cifra quindi anche quello un meccanismo innovativo che consente diciamo di risparmiare in parte l'interesse che avrebbe dovuto alla banca Social Innovation Camp e Social Change Weekend ne abbiamo parlato sono diciamo dei modelli di incubazione però ristretti nel tempo stai chiuso in una stanza un giorno o tre giorni a lavorare intensamente alla tua idea e alla fine della tre giorni o esci rintronato completamente oppure esci con una idea più sviluppata e più strutturata rispetto a quella con la quale sei entrato sono dei modelli che vengono dal mondo delle start up tecnologiche che vuol dire tutto ciò che ha a che fare con internet perché da lì viene il concetto di start up per cui quando si parla di start up o di web start up ci sono degli sviluppatori degli informatici matti che si mettono lì e si inventano un programmino con l'obiettivo di poi vendere magari su YouTube o su iTunes questo programmino a quanta più gente è possibile a 50 centesimi l'uno per fare un sacco di soldi questo è l'obiettivo e in quei tre giorni loro elaborano questi programmini si è poi mutuato questo modello delle web start up anche per le imprese sociali e quindi sono dei periodi concentrati di lavoro su imprese sociali uno l'abbiamo fatto a Taranto il 30 giugno scorso stiamo pensando di farne uno a Lecce che pare sia molto più recettiva di Taranto da questo punto di vista e quindi magari vi faremo sapere quando lo faremo a Lecce della social innovation competition abbiamo parlato c'è un Naples 2.0 perché la commissione europea ha copiato in realtà da una cosa che avevamo fatto noi tre anni fa per quello si chiamava Naples 2.0 degli hub abbiamo parlato Changemakers è uno di questi concorsi di idee per la cultura che è stato fatto nell'ambito di Expo da Avanzi con la società di cui ho fatto vedere prima il modellino delle start up a vocazione sociale abbiamo parlato diffusamente c'è l'ultimi dieci minuti per le ultime domande poi ovviamente mi potete contattare o potete vedere su internet a questo punto il giochino con i post-it lo facciamo la prossima volta eh? ho bisogno di un paio d'ore per fare la faccenda dei post-it domande? siete sconcertati? il sociale non li attira più è diventato troppo pubblicato è più facile fare i geni aerospaziati sono interessanti però ci rendiamo un po' più pronto e in Italia sono veramente molto bella quindi queste innovazioni che ci hanno spettato e in realtà quanto di affrontare o no? beh sono un paese sarebbe insomma avrei restato un video di ciò sapere perché a decisi di rimanere qui ho anche una sconversa una capacità di resistenza superiore a un'altra no alcune di queste novità periodicamente vengono proposte anche per l'Italia ho detto che c'è questa proposta di legge di modifica della 155 che accoglie alcune di queste di queste ipotesi alla fine dell'anno scorso ci fu un'analoga proposta che addirittura era stata messa in votazione nell'ambito della legge di stabilità dell'anno scorso poi ritirata improvvisamente e frettolosamente senza capire bene perché tipo il giorno prima che votassero la legge di stabilità quindi c'è evidentemente un movimento sempre crescente di soggetti che sono interessati a queste a queste novità bisogna vedere poi quando effettivamente si potranno tradurre in pratica c'è anche una resistenza al cambiamento molto forte un episodio che racconto sempre che quando nel novembre del 2011 c'è stata questa conferenza di lancio della Social Business Initiative gli organizzatori diciamo il gabinetto di Barnier che è il commissario europeo che si occupa di questo tema chiese ai vari paesi di presentare un caso di successo di innovazione durante questa conferenza e poiché all'epoca facevamo nell'ambito di un network europeo da supporto alla commissione per il lancio di questa di questa Social Business Initiative noi proponemmo una ragazza di Napoli di 19 anni che è appunto la questa ragazza che lavora in questa associazione che fa teatro per i bambini eccetera che all'epoca era con gli olandesi in questo gruppo poi non si sono capiti ma all'epoca stavano appena iniziando a lavorare su questa cosa e chiaramente questa ragazza parlava anche benino l'inglese quindi potevamo diciamo presentarla aveva 19 anni quindi molto giovane e ci sono state delle telefonate al commissario Barnier e al suo gruppo in cui si chiedeva di non far parlare questa ragazza perché non era possibile che l'Italia fosse rappresentata da una ragazza giovane senza nessuna esperienza laddove invece doveva essere rappresentata dal mega presidente mega galattico della solita grande organizzazione del terzo settore che stava lì da 75 anni e che poteva con tutta la sua esperienza ben meglio rappresentare la la realtà del terzo settore e il commissario Barnier invece optò per far parlare la ragazza e non consentì diciamo nemmeno la replica in aula a questo mega galattico e quello secondo me fu abbastanza esemplificativo di che cosa com'è la situazione in Italia in questo settore cioè c'è una grande storia una grande tradizione che non vuole cambiare e che cerca legittimamente di difendere questa storia e questa tradizione c'è però d'altra parte una serie di organizzazioni in genere portate avanti da giovani anche perché non hanno lavoro non devono inventarsi delle cose che stanno comunque pensando a soluzioni nuove ed è chiaro che prima o poi non fosse altro che fatti anagrafici queste novità diciamo verranno a prevalere insomma non è è un po' quello che avviene in tutti i settori in Italia il terzo settore è molto rappresentativo di quello che è diciamo l'Italia per questo vi dicevo all'inizio della giornata che molto spesso quando faccio docenze di questo tipo a persone che lavorano nel terzo settore dopo un po' mi cominciano a tirare le cose dietro perché diciamo parlo di cose che sono troppo al di fuori del della tradizione italiana che invece deve essere difesa e valorizzata cosa con la quale sono d'accordo però diciamo perché non stiamo parlando di un museo diciamo parlando di economia e di sociale non è possiamo solo difendere un stato garantista grande e quella è la nostra tradizione per cui da uno stato garantista che dalle determinate diciamo garanzie anche quanto riguarda le vendite costituzionali sancipi da una costituzione passare da questo di un scopo innovativo con tutto ciò che la sua economia non ha quello che l'economia diciamo competitiva non è facile c'è il cambiamento culturale necessita di uno sforzo molto grande da parte di tutti ma comunque cioè si parla come del suo settore forse è quello che si organizzerà costituzionalmente e anche perché per costituire per farlo sul capitale sociale tipo la regione del Piove il capitale di un'area quindi le risorse o ti autoproduci con la comunità o come se vuoi e quindi benvenuta però in questo sforzo io credo che bisognerebbe essere perché sostenuti aiutati sì sicuramente con cioè con degli insegnanti è al livello proprio strutturale che bisogna modificare gli sforzi ecco perché non è sempre non perché si gratifica nello stare chiuso con le proprie idee con il proprio senso di garanzia ma è perché da questo sistema di stato garantista io già grazie a te io sono un'assistente per cui parlo da quelli assistenti sociali che non mi diranno di cosa vuoto perché sono felice e piacere le novità le innovazioni che mi portano invece a creare il sviluppo nell'economia mi sono un po' da sola perché a me piace da vedere come è lo sviluppo dei percorsi eccetera e il discorso e nonostante c'è questa cosa e questo desiderio ovviamente si si confronta a un problema reale la realtà è questo che stiamo vedendo per cui la forza il mercato quello che si vuole non è semplice se non parte proprio a livello istituzionale parlamentare cioè se non parte proprio a livello struttivale la modifica quindi noi staremo qui a parlare tra virgolette per almeno 23 20-30 anni non me lo speriamo di oggi sicuramente no perché succederà in Belge ovviamente dato che le cose ormai i soldi sono finiti da dire il prodotto bastiato ovviamente si sta continuando a arredolare quindi ovviamente o ci si dà da fare o ci si dà da fare che è chiaro che è benvenuto le novità le innovazioni e soprattutto la formazione di questo tipo che vi ha se non ha chiudere di cosa può essere poi ognuno valuterà anche insieme che il sistema possa valutare qual è il viaggio che si vuole sviluppare perché le idee sono tutte buone sicuramente avremo delle buone ma anche una ricchezza di risorse che comunque si alimenteranno cioè comunque no perché la diciamo la crisi comenta poi lo spirito del positivo comenta comunque una crescita positiva flessibile quello che è il mercato di oggi però c'è un cambiamento culturale che non è facile da sì diciamo che più che lo stato garantista il punto è che c'è una una disponibilità di risorse pubbliche queste risorse pubbliche vengono distribuite in un certo modo e vediamo di pensare sempre a ma vengono distribuite in un certo modo per fare determinate cose bene queste risorse vanno progressivamente riducendosi allora ci possono essere due approcci a questo fenomeno il fatto che si stiano riducendo e che non potranno più crescere un fatto oggettivo perché se dobbiamo pagare sempre più pensioni avremo sempre meno soldi per fare altre cose quindi ci sono dei fenomeni demografici ambientali in Italia che non c'è niente da fare allora o si fa una scelta di difesa del recinto di queste risorse che sono disponibili cioè si prova ad evitare che si riducano e quindi è chiaro che rispetto a tutto quello che abbiamo detto bisogna difendere questo recinto per esempio dagli olandesi che possono venire ad attingere a queste risorse per fare delle cose oppure noi possiamo immaginare che fuori da questo recinto ci sono molte più risorse disponibili i 500 miliardi di investimenti per esempio che dicevo prima oppure i fondi che sono europei in giro per i vari paesi d'Europa e provare a uscire dal recinto per andarsi a prendere noi queste risorse supplementari che ci sono fuori allora tutta la scelta sta se noi vogliamo stare dentro il recinto o provare a uscire fuori dal recinto se noi stiamo dentro il recinto queste risorse che sono fuori qualcuno se le prenderà quando avremo finito quelle che sono dentro e andremo a uscire dal recinto per forza non troveremo più niente e quindi evidentemente è utile che c'è un mio amico che insegna la Bocconi che fa sempre l'esempio del dice che il terzo settore è come se fosse un gruppo di persone che vive all'interno di un tombino cioè dentro questo tombino le persone che lavorano nel sociale parlano tra di loro e dicono ah questa cosa qua si può fare è bella tu la fai così io la faccio così però parlano sempre tra di loro mentre sopra succedono una serie di cose a un certo punto è molto più facile che quelli di sopra aprano il tombino per buttarci dentro qualche cosa che non il contrario perché è evidente che nel mondo ci saranno la possibilità di scambiare idee e confrontarsi molto di più di quanto non avvenga dentro il tombino ed in realtà quello che sta avvenendo cioè il fatto che ci siano fondi di investimento che cominciano ad operare con il sociale che ci siano diciamo in Italia è stata creata una fondazione che si chiama Human che si pone l'obiettivo di sviluppare il settore dell'impact investing cioè degli investimenti sociali in Italia ed è una fondazione che è presieduta dalla Melandri e nel consiglio d'amministrazione c'è la Moratti e tutta una serie di altre persone diciamo note che o sono della politica o sono della finanza non c'è nessuno del terzo settore e quindi è chiaro che già si vede come a forza di stare nel tombino le cose che stanno avvenendo fuori le stanno facendo altri sarebbe stato molto più logico se fosse stato il mondo delle cooperative sociali delle associazioni delle associazioni di promozione sociale tutti quelli di cui abbiamo parlato stamattina a inventarsi le cose piuttosto che farsele imporre da soggetti che non hanno a che fare con il sociale però questo è quello che sta avvenendo già oggi e diciamo vai no io non volevo farti una domanda ci sono due giorni che non riesci a farlo ma io ho questa subordinazione dell'autorità che mi da qui ci sono psicologi probabilmente che potrebbero aiutarmi grazie a me sì sì grazie a me ma infatti abbiamo organizzato tutto questo questo no non lo so io volevo fare una considerazione volevo sentire anche i miei colleghi e te per sapere se questa considerazione può essere quella utile ai nostri figli ai figli diciamo locali nei quali ci troviamo perché partiamo proprio anche dal principio per il quale abbiamo organizzato questo nostro incontro che è quello poi di stimolare di dare degli impulsi degli input che possano aiutarci ad avere un pensiero diverso rispetto al nostro futuro a stimolarci ad essere protagonisti diciamo della nostra del nostro futuro adesso non voglio usare slogan anni 80 antipatici e desueti ma proprio ad essere protagonisti di noi stessi e quindi cercare di con le nostre mani di aiutarci ad andare avanti lì dove il mercato del lavoro diventa sempre più difficile più complesso non riusciamo a trovare una soluzione che ci venga incontro e ci aiuti quello che tu ci hai detto oggi è stato interessantissimo dal mio punto di vista ci ha fornito una panoramica di quello che sono le varie opportunità che si aprono e che vuole affrontare un progetto di carattere sociale sia dal punto di vista giuridico e quindi le varie forme con le quali si può affrontare un'impresa di carattere sociale ma fondi di finanziamento e quant'altro ma c'è dato secondo me anche un altro elemento di lettura che è quello della creatività cioè nel senso di pensare all'approccio al terzo settore non in termini consueti ma in termini laterali per usare un altro elemento che alla Bocconi piace tanto probabilmente lo direbbero in inglese io che sono la di sotto c'è nel senso che secondo me è poi l'aspetto che più interessa a tutti noi cioè cominciare a pensare che lo stesso problema può essere risolto con modalità differenti e quindi nell'ambito del sociale di opportunità di risposta alle esigenze del mercato del sociale ce ne possono essere tante quindi magari per noi sarebbe interessante già stimolare noi stessi e magari potremmo anche pensare in un futuro di fare una sorta di brainstorming collettivo anche perché mi sembra che ci siano anche elementi interessanti perché dagli interventi che ho sentito mi sembra che ci siano anche persone assolutamente molto interessate da questo settore e quindi magari cominciare visto che questo è il primo di cinque incontri che ci saranno successivamente che magari in futuro ci potrebbero essere anche si potrebbero aprire anche delle opportunità diverse cominciare a pensare che ne so la sto lanciando lì poi vedremo che cosa a pensare a modalità nuove per soddisfare bisogni ricorrenti ecco perché quello potrebbe essere il nucleo un seme di una nuova di una nuova impresa di una nuova avventura che magari potendo approfittare di nuovi bandi nuove opportunità di finanziamento potremmo mettere sul mercato e verificare se ci sono delle opportunità perché questa sia poi sostenibile intelligente e quant'altro insomma cioè secondo me alla fine di questa giornata in cui tu c'hai un bombardato di informazioni molte delle quali a grandissima scala che vanno su una scala molto più ampia di quella del nostro locale potrebbe essere appunto interessante che ci mentalizziamo anche su questo aspetto cioè cercare di pensare a modalità nuove diverse settori che ci possono aiutare a risolvere a dare delle risposte al mercato del sociale che oggi sono consuete insomma infatti l'obiettivo di questa giornata era appunto di esplorare il contesto affinché ognuno di noi potesse uscire dal nostro recinto da le nostre convinzioni i nostri costrutti mentali che ci vengono ereditati addirittura imposti dalla società stessa secondo i nostri canoni antropologici che vengono via via costruendo quello che ti chiedo Marco di uscire anche tu da un recinto dal nostro recinto nel senso che oggi comunque abbiamo raggiunto l'obiettivo dell'esplorazione del contesto quindi Marco e quindi ti chiederei di chiudere anche la giornata uscendo da questo recinto macro ed entrare in questo aspetto microeconomico che si rivolga appunto a un consiglio che potresti dare a un proprio caro amico che vive nel Salento nella strada da perseguire ecco questo quale strada insomma consiglieresti a bella domanda no diciamo che la faccenda dei post-it serviva un po' a a fare questo tipo di lavoro perché ovviamente io non posso darvi le risposte rispetto a vostro territorio quindi quello che è utile fare magari con una modalità guidata non so se i docenti delle prossime giornate o anche diciamo voi vi posso dare qualche consiglio a distanza far emergere quelle che sono come dire delle problematiche sociali più forti e più sentite del territorio individuare quella che chi vuole diciamo entrare in questo gioco ritiene assieme quella più significativa su cui agire e provare a inventare a pensare fuori dalla scatola out of the box come dicono sempre quelli bravi delle soluzioni come dire liberandosi da come si è dal come si è sempre fatto e cercando di pensare su un caso specifico su un problema specifico del territorio come affrontarlo una volta che verranno fuori delle soluzioni starà diciamo stesso a voi individuare quale vi convince di più tra queste soluzioni come dire innovative che vi sono venute in mente ed è chiaro che potete anche confrontarvi poi ormai di social media dove potete mettere per esempio una piattaforma che si chiama Kublai dove si fa proprio questo si spostano le proprie idee e si chiede ad altri di contribuire su questa piattaforma a ragionarci su se l'idea è interessante i commenti saranno molti e aiuteranno molto se l'idea è una fesseria non attirerà l'attenzione di nessuno quindi direi che si può potete provare a fare questo tipo di lavoro però questo è l'altro dei problemi che diventa quadrottico volendola mettere come fare un risultato tecnico il professionista è quello che farei io quando riguarda i bisogni voglio rispondere è bene concentrarsi su diciamo un singolo settore un singolo bisogno oppure è bene diciamo ampliare diversificare andando a raggi in più settori cioè com'è è meglio focalizzare volendo fare come dire un primo esercizio di lavoro assieme ovviamente se stai su tante cose diventa poi troppo dispersivo che possono conoscere fuori n idee per n problemi e alla fine che non si esce quindi è utile che ne individuate uno che magari è quello che vi sa più a cuore è quello nel quale ritenete sia necessario intervenire quale anche come vostra esperienza di vita di lavoro siete più propensi conoscete meglio insomma e così via e poi provare a lavorare su come quel problema può essere affrontato partendo dal presupposto che il modo come è stato affrontato fino adesso non lo ha risolto quindi entrando in quella logica che dicevamo stamattina anzi nel primo pomeriggio dell'impatto sociale cioè di eliminare il problema cioè voi dovete agire non per aiutare una persona ma per eliminare il problema è chiaro che se voi riuscite a trovare una soluzione per eliminare il problema un problema sociale rilevante qualcuno che ve la finanzia o che se la compra lo trovate mi sembra una bellissima di voi potremmo parlare di non fermiamo le nozioni non fermiamo non fermiamo solo il patrimonio dei vostri contatti ma ci attiviamo a creare questa questa rete già prima del prossimo incontro iniziale il prossimo incontro vediamo che qua una statistica quanti di voi sarebbe interessati a costituire una cooperativa una cooperativa su la faccia ad alzatimanti vabbè già ce l'hai in abbondanza come dicevi tra i genotipi grazie 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 a tutti